Il Segno del Sale, un romanzo giallo scritto da un noto professionista spezzino, Massimo Ansaldo, avvocato, che ha questa passione. Ha vinto un premio, il premio Città di Sarzana. Una bella soddisfazione? Certamente, sono stato riconosciuto autore di un'opera di pregio, ha vinto il primo premio della sezione giallo ed è una conferma che magari il mio tentativo di scrivere delle storie riesce, nel senso che appassionano, che tengono anche il lettore incollato alla lettura. Uno dei complimenti più belli che ho capito in questi 3-4 anni dove sviluppo il mio hobby della scrittura è quando un lettore ti dice non ho mollato il libro. Ho avuto la volontà e quasi la necessità di portarlo a termine nella lettura. È un gran bel complimento. Certo, Massimo. Un romanzo giallo che è avvincente e quindi anche, possiamo dirlo, un libro estivo. Qualche cenno sulla trama, ovviamente non svegliamo l'assassino. Dovevo scegliere un luogo che mi dava l'impressione che potesse raccogliere l'odio di due famiglie, i Roversi e i Durante, che sono due famiglie che incominciano a guardarsi particolarmente male dal 1940 e sono i nonni dei protagonisti di oggi, aveva bisogno appunto di un luogo che mi desse l'idea che proprio anche su una specie di rocca mantenesse sempre una forma quasi di chiusura, una cappa di paura. Ho scelto Campiglia per quello, ma ho scelto anche Campiglia per mettere in evidenza come c'è sempre un contrasto tra la bellezza del paesaggio, quindi i tramonti, il golfo dei poeti e tutte le bellezze del nostro golfo e la possibilità anche di commettere il male. Di questo e molto altro sul libro, ovviamente vi invitiamo a leggerlo. Qualche approfondimento in più nel nostro Tg Zoom dopo il telegiornale.